TG Sud nuovo look da lunedì i nostri telegiornali si rifanno in look nuove rubriche più approfondimenti e come sempre tante notizie ogni giorno con voi. L'Influ Day alvia la campagna per la promozione della vaccinazione antinfluenzale. Attivati una trentina di punti vaccinazione sparsi per i comuni della provincia mentre il camper mobile dell'Asp sosterà a Trapani nella centrale piazza stazione. Marsala si prepara al Natale presentato dal sindaco Alberto Di Girolamo il ricco programma di manifestazioni promosso dall'amministrazione comunale per le festività. Vola libero questa sera a San Vitolo Capo andrà in scena la PS teatrale tratta dal libro di Giacomo Pilati le siciliane. Per lo sport Francavilla e Legnano. Il Trapani Calcio effettuerà l'allenamento di rifinitura questo pomeriggio in vista del match contro la Virtus Francavilla. La balacanestro Trapani è pronta per la sfida di domenica contro il Legnano. Nuovamente in diretta con la seconda edizione del TG Sud ben ritrovati. La prossima settimana l'informazione si arricchisce di nuovi contenuti. Vediamo di che cosa si tratta. Un anno stop di informazione di oltre due ore quella che vi aspetta da lunedì sulla nostra emittente. Preceduto ogni giorno alle 13 dall'approfondimento sanitario che è sempre più successo stare scuotendo sul territorio in termini di ascolto segnò che è un campo assai sentito dalla popolazione. Ma ITG saranno come sempre il cuore dell'informazione di Tele Sud. Ad iniziare dalle corazzate delle ore 13, 45, 14 e 20. Per entrambe comunque ci saranno grosse novità. La prima edizione avrà un antefatto chiamato la notizia del giorno che già dal titolo evidenzia la particolare attenzione che la redazione darà alle cronache delle ultime 24 ore. Si chiude e si riparte con due edizioni, una dietro l'altra, con tutti i fatti della provincia e non solo. A seguire il ITG sportivo, sezione sempre assai presente sulla nostra emittente. Dalle 14 e 20 poi nuova carrellata di notizie. Lo start sarà con l'approfondimento editoriale, un commento più ragionato, dei grandi fatti della nostra terra o comunque notizie che meritano una riflessione e degli spazi più lunghi da parte della redazione. Novità assoluta, la notizia meteo. Ogni giorno in coda al notiziario di cronaca, eventi e costume avrà il suo minuto quotidiano che traccerà le 24 ore successive e cosa aspettarsi meteorologicamente. E styling anche per quelli serali. Nuova formula in tre parti che oltre a riproporre i temi della giornata si aggiorneranno anche loro di una nuova notizia del giorno, non trattata durante quelli delle ore 14 o magari raccolta durante il pomeriggio dalle cronaca del territorio. Insomma, un nuovo sforzo editoriale per un gruppo ed una redazione che vuole sempre rinnovarsi e superarsi. Un'ascom messa già vinta appena due anni fa, quando anticipammo i nostri TG di un quarto d'ora, schiodando quel fatidico ore 14 retaggio di un polveroso passato che sembrava essere inamovibile in una gerarchia datata che voleva alle ore 13 ad appannaggio dei media nazionali, le 13.30 di quelli regionali e relegati alle due i telegiornali locali destinati ad un unico triste contenitore che dopo circa mezz'ora era obbligato ad eclissarsi nella scommodità oraria del telespettatore. Abbiamo creduto fortemente nel valore della notizia locale con immagini fresche e interviste ai protagonisti dei fatti. Sul grande schermo ormai il piccolo né più la tv, ma il tablet, il smartphone, magari comodamente seduti attorno al focolare domestico, un style. E difatti ci hanno dato ragione. Grazie a voi ogni giorno. Ci mancherebbe il web, oggi fondamentale, ed infatti anche qui a breve annunceremo importanti novità. Ma nessuno ci toglie dalla testa che ancora per molto, soprattutto in dimensioni non metropolitane come la nostra, la vecchia tv ha tanto da dire. Basta rinnovarsi credendoci. Nuova perquisizione da parte degli uomini della Direzione Investigativa Antimafia di Trapani nell'ala privata di Palazzo Pignatelli a Castelvetrano dove Gianfranco Becchina, mercante internazionale di opere d'arte accusato di essere vicino al latitante Matteo Messina Denaro, è raggiunto mercoledì scorso da un provvedimento di sequestro di svariati milioni di euro. Ieri gli agenti della DIA nel corso del nuovo intervento hanno eseguito diversi rilievi fotografici e prelevato parecchio materiale adesso al vaglio degli investigatori. Passato al setaccio il deposito dove mercoledì scorso era divampato un incendio. Le indagini coordinate dal procuratore di Palermo Francesco Lovoi e dal sostituto Geri Ferrara hanno portato il sequestro di parecchie società riconducibili a Becchina e i suoi familiari. Spicca tra tutte l'azienda Olio Verde conosciuta in tutto il mondo per l'esportazione di olio di Nocellara del Belice e vincitrice di parecchi premi. Lo stesso Becchina si vantava di aver fatto arrivare il suo olio alla Casa Bianca. Secondo gli investigatori l'imprenditore avrebbe accumulato un immenso patrimonio anche grazie ad un trentennio di traffici illeciti. A Roma Becchina è finito a processo per traffico internazionale di reperti archeologici conclusosi nel 2011 con la prescrizione. I legami con la mafia invece sono emersi dalle indagini condotte nei confronti dell'imprenditore Rosario Cascio che hanno portato alla confisca dell'Atlas Cementi SRL costituita da Becchina nel 1987. Becchina ha sempre respinto ogni accusa che lo accostasse a Cosa Nostra e in particolare a Messina De Naro. Ma a parlare di questi legami sono stati diversi pentiti. Gli ultimi a confermarli sono Giuseppe Grigoli, ex padron dei supermercati Despar, prestanome del boss castelvetranese, e Lorenzo Cimarosa, cugino acquisito dell'Atitante. Nel corso dei suoi interrogatori Grigoli ha parlato di buste di denaro da consegnare proprio a Matteo Messina De Naro. Le parole del pentito sono confermate dai verbali di Cimarosa che racconta anche di un attentato ai danni di Becchina che sarebbe stato ordinato da Matteo Messina De Naro in persona. Un avvertimento per la mancata consegna del denaro. Ci siamo occupati nell'edizione di ieri di un problema legato alle condizioni igieniche in cui vive una signora con 16 gatti a casa nel rione Sant'Alberto. Oggi l'intervento dei vigili urbani. Stamattina uno degli abitanti della palazzina in cui vive la Gattara e che avevamo ascoltato ieri ha minacciato di darsi fuoco per protestare contro l'impossibilità ma ne è stata ieri di liberare l'appartamento dalla presenza dei gatti, in gran parte ammalati e che mettono a rischio la salute degli altri inquilini. Oggi finalmente il responsabile del servizio veterinario dell'Aspe è riuscito ad entrare nell'appartamento accompagnato da una pattuglia di vigili urbani. Ha trovato 16 felini tenuti in pessime condizioni ed affidati ad un veterinario. Gli altri sei, su direttiva dal segretario comunale di Trapani, sembrerebbe che abbiano dato indicazione ai vigili di liberare gli animali alla Villa Margherita, cosa peraltro vietata dalla legge in quanto si potrebbe individuare il reato di abbandono di animali. L'azienda sanitaria provinciale di Trapani si mobilita in occasione dell'Influ Day 2017, la giornata di sensibilizzazione alla vaccinazione antinfluenzale promossa su tutto il territorio della nostra isola dall'assessorato regionale alla salute. Nell'ambito della campagna antinfluenzale 2017-2018, con l'obiettivo di organizzare l'opinione pubblica sullo valore della prevenzione vaccinale antinfluenzale, saranno una trentina di punti vaccinazione sparsi per i comuni della provincia, mentre il camper mobile dell'Aspe per le vaccinazioni sosterà a Trapani nella centrale piazza stazione. Quest'anno oltre gli ambulatori vaccinali distrettuali sono state individuate anche le ollo degli ospedali della provincia, dove sono stati allestiti per questa giornata negli infopoint, dove sarà possibile anche vaccinarsi dalle 9 alle 13. La vaccinazione antinfluenzale è gratuita per tutti i soggetti che hanno compiuto 64 anni, per i soggetti a rischio, come coloro che soffrono di patologie croniche, e per tutte le categorie di lavoratori addetti a servizi di pubblica utilità. Tra le strutture convenzionate, una notevole affluenza è stata registrata presso la casa di cura a Morana, incontrata a Dara a Marsala. Dottor Bavetta, entra nel vivo la campagna vaccinale, avete una serie di postazioni in giro per tutte le aree dell'Aspe della provincia. Oggi, proprio qui a piazza stazione, sotto l'Aspe c'è anche un camper per darle informazioni. Non solo informazioni, ma per somministrare il vaccino. Quindi questo è il nostro obiettivo odierno. È una giornata importante perché le giornate di sensibilizzazione servono di collegare l'azienda e gli operatori sanitari, che colgo l'occasione per ringraziare. Abbiamo oltre 30 punti in tutta la provincia per la vaccinazione, quindi questo, devo dire, coordinato bene dal dottore Canzoniere, dal tutto il Dipartimento di Prevenzione, e questo è importante perché collega in modo pratico l'azienda agli cittadini. Oggi vaccinarsi il vaccino anti-influenzale, anti-pneumococcico, è fondamentale perché oggi, voglio dire, questo si previene questa malattia. Una volta si moriva anche, si trasmetteva questa malattia, era un'occasione di contagio, quindi di epidemia per certe versi. Oggi questo è possibile con il vaccino non avere questa malattia, la presenza di questa malattia e soprattutto continuare una vita di prevenzione, una vita di corretto stile di vita e di buona salute. Dottore Canzonieri, vaccinarsi non solo per i soggetti a rischio è importante per tutti, soprattutto perché oltre che la propria di salute si previene anche quella degli altri che vorrebbe raccontato, di chi invece diventa portatore. Sì, mi fa piacere che mi fa questa domanda perché l'obiettivo di questa giornata è proprio in tal senso. Noi oggi più che somministrare il vaccino, cosa che stiamo facendo, fra l'altro come diceva il direttore egregiamente, con dei buoni risultati, però l'intendimento principale è quello di fare passare il messaggio che la vaccinazione anti-influenzale è una vaccinazione utile ed efficace che va fatta non solo per proteggere se stesse ma per proteggere tutte la collettività e quindi i più deboli. Tra l'altro colgo l'occasione e ringrazio tutto il Dipartimento, tutta l'azienda sanitaria perché questo sforzo organizzativo di oggi servirà e lo scopo è anche questo di sensibilizzare soprattutto l'utenza sanitaria perché uno degli obiettivi della campagna anti-influenzale è quella di vaccinare gli operatori sanitari che potrebbero essere i primi a trasmettere la malattia. Lunedì ricorre il primo anniversario della tragica morte di Anna Manuguerra, uccisa con 23 coltellate il 20 novembre dell'anno scorso nella sua abitazione di Nubia e per il cui delitto è accusato il marito Antonino Madone. La comunità parrocchiale della piccola frazione Pacecota si riunirà alle ore 20 in via Speranza davanti alla casa della donna per dare vita ad una fiaccolata che si aprirà con un gesto simbolico. Gli uomini doneranno alle donne presenti una rosa, un segno che rappresenta un impegno a consegnare sentimenti di attenzione e di rispetto nei gesti della vita quotidiana. Poi la celebrazione eucaristica nella chiesa di Maria Santissima Immacolata durante la quale le rose saranno poste ai piedi dell'immagine della Madonna. E adesso a Marsala, conferenza stampa questa mattina del sindaco Alberto Di Girolamo per illustrare la stagione teatrale 2017-2018, il Marsala Wine in Christmas Time, l'illuminazione natalizia, il villaggio di Santa Claus e il palaghiaccio oltre a tutte le iniziative legate alle feste di fine anno. Ascoltiamolo. Il primo spettacolo sarà fatto il 27 novembre, poi il 15 dicembre, poi il 29 dicembre e poi continuerà fino al mese di aprile. Il lunedì ci sarà il maestro Vadia che rappresenterà tutta la stagione e quindi così nei dettagli scenderemo con lui. Molte queste illumineremo la città in tempo o all'inizio del mese dicembre perché è bello vedere tutte le nostre strade illuminate e spero che così facciano anche tutti gli altri, che ci siano le vetrine illuminate, belle, vestite a nuovo possiamo dire. Oltre questo per tre giorni, il 15, 16, 17 dicembre, ci sarà una grande manifestazione dove il nostro prodotto di eccellenza che è il vino, lo mettiamo insieme a tanti altri prodotti di eccellenza che ci sono non solo a Marsala ma anche in Sicilia e cioccolato. L'anno scorso abbiamo fatto un cemellaggio con Modica, quest'anno gli amici di Modica verranno qua a portare il loro cioccolato, ma non solo questo. Un'altra chicca è che apriremo il Palazzo Uffici. Dopo tanti anni di chiusura, tanti anni di un palazzo iniziato a essere risistemato tanti anni fa, poi è stato abbandonato per motivi vari, l'apriremo prima del 15, 16 e 17. Stiamo lavorando con la mia idea di pubblico e privato messi insieme, perché è giusto che sia così, come tutti questi spettacoli per certi versi, ma a bellimento della città lo stiamo facendo con le imprese private. I tre giorni di vino ed eccellenza sono la maggior parte dei nostri produttori che saranno presenti. Questa è una cosa importante che ci tengo a dirlo e ringrazio tutto loro, ma lo stiamo facendo insieme alla strada del vino che ci sta dando una mano, quindi una collaborazione stretta tra il Comune di Massa e la strada del vino. Una collaborazione stretta con altri privati che mettono a disposizione e che fanno palaghiaccio, quindi allo stadio ci sarà un grande palazzo, un locale dove i ragazzi possono andare a giocare, a correre su una pista di ghiaccio, una cosa fondamentale, con Peppe Sturiano, l'anno scorso l'ha fatto e così farà anche quest'anno e quindi in stretta collaborazione. E ancora Piazza Carmene sarà piena perché il villaggio Santa Claus è stato fatto l'anno scorso e continuerà a essere fatto quest'anno, sempre stretta collaborazione tra il Comune e Mario Ottoveggio, Mario Mixi conosciuto. Invito tutti, non semplicemente marsalese, ma anche acce della provincia e della Sicilia a venire a Marsala perché non si stancheranno, ogni sera troveranno qualcosa in questo mese di dicembre e anche a gennaio. Andrei Scena, questa sera alle 21 al Teatro Comunale di San Vito Lo Capo, la pièce teatrale diretta da Anna Graziano dal titolo Vola Libero, le donne che hanno detto no alla mafia, tratto dal libro di Giacomo Pilati, Le Siciliane. Ascoltiamo. Per me è un grande piacere che questa cosa avvenga al Teatro Comunale di San Vito perché secondo me è uno spazio in cui noi crediamo veramente tanto e soprattutto perché ho avuto la grande fortuna di confrontarmi con Giacomo nella fase di scrittura perché ovviamente avendo scritto il testo ero sempre lì a chiedere consiglio a Giacomo per evitare perché è ufficialmente la prima opera che in realtà scrivo io quindi avevo bisogno del suo supporto. Faremo solo questa serata perché poi andremo in tournée in tutta Italia perché questo spettacolo era nato per fare degli spettacoli appunto all'interno delle scuole. Poi in realtà sta diventando qualcos'altro perché il testo è forte perché dietro c'è un uomo come Giacomo che quando scrive lascia il segno e diciamo la verità Giacomo di cui io ho tantissima stima perché è stata convolta in questi tre personaggi. Uno è Pina Maissano Grassi interpretato da Jessica Savaldi, Rosa Cusenza fa l'amica che il caso avvoluto si chiamasse anche Rosa, io farò Felicia Impastato e Rosa Cusenza farà Anna Giordano. Questa è una donna che è l'unica protagonista viva, secondo me il mondo dovrebbe conoscere di più questa donna perché è una donna che ha lasciato veramente il segno e siccome è l'unica viva delle tre protagoniste sarà lì ed è anche un modo di non parlare sempre di Sicilia e mafia ma di dire anche altro. Lei si è occupata molto dell'ambiente, ha avuto il Nobel per l'ambiente, è stata considerata una dei cinque eroi del pianeta quindi valeva la pena assolutamente coinvolgerla in questa storia. Giacomo è un privilegio? Sì è davvero un grande privilegio perché io ho avuto la fortuna già di leggere il testo, il copione ed Anna è riuscita a cogliere veramente la drammaticità nella normalità e nella quotidianità di queste tre donne straordinarie quindi è un testo veramente quello che una volta veniva chiamato teatro d'impegno civile e lo è davvero. Volevo sottolineare che lo spettacolo si chiama Vola Libero, queste tre storie hanno in comune la libertà quindi sottolineo soprattutto questo e che presenti allo spettacolo avremo anche l'onore e l'orgoglio di avere i figli di Libero Grassi quindi di Pina Maesano Grassi e Anna Giordano e probabilmente ci sarà anche Giovanni Impastato quindi uno spettacolo a tutto tondo e vi invito a venire a vedere. Il Muro dei Martiri ispirato al drammatico epilogo delle vite dei magistrati Falcone e Borsellino è il titolo di una rappresentazione che andrà in scena questa sera con la produzione dell'ente luglio musicale trapanese al teatro Pardo del Conservatorio Scontrino. Andiamo in scena questa sera con l'uglio trapanese all'auditorium Tonino Pardo e facciamo questa prima, secondo me molto importante, tra le altre cose è un'opera molto bella del maestro Antonio Fortunato, secondo me è un'operazione molto importante che si sta facendo qui in Sicilia, tra l'altro appunto l'opera è bellissima, la regia è di Maria Paola Biano, la direzione d'orchestra è il maestro Elio Orciuolo e diciamo anche il libretto di Gaspare Miraglia. E poi ci sono altri cantanti. Poi ci sono i tre solisti, vogliamo dire i tre solisti, allora il soprano è Clara Polito, il baritono è Luca Bruno e il basso è Francesco Palmieri, me li sono ricordati, tutti sono stato bravo. Bravissimo. Che lettura date a questa vicenda che coinvolge appunto due figure che per i siciliani sono state veramente un simbolo di lotta alla mafia? Questo simbolo è mantenuto, il livello credo sia proprio alto e importante dal punto di vista culturale e artistico, i due che interpretano due attori, appunto Claudio Nardo e Edoardo Sinavo, sono da noi prospettati come due anime che come se dall'alto ci guardassero e ci dicessero continuate e continuate la vostra lotta e forse che il fatto che avvenga proprio nello stesso giorno, questa nostra prima in cui muore Totò Rina, insomma mi sembra non solo simbolico ma forse anche strano e curioso. Lei oltre che il ruolo di suggeritore nelle interviste sulla scena è Paolo Borsellino. Paolo Borsellino è un ruolo come quello anche di Falcone, un ruolo pesante, no? Da vestire abiti stretti perché un gigante come Falcone, due giganti, due eroi che hanno appunto combattuto la mafia fino al sacrificio estremo. Però anche se solo per un'ora e mezza che è la durata dello spettacolo ci sembra di essere strumenti per far rivivere nel ricordo delle persone che è fondamentale ricordare certe cose che succedono proprio per cercare di non ripetere gli errori che si ripetono, insomma perché la memoria aiuta, dovrebbe aiutare. Lo spettacolo che prendono da questa sera alle 21 fra una replica domenica e poi c'è anche un mattine per gli studenti. Sì, lo spettacolo va in scena stasera alle 21, come abbiamo detto al Teatro Pardo, lì al Conservatorio dei Trapani, poi andrà in scena ancora domenica sempre alle 21 e lunedì mattina alle 11 per le scolaresche. Le nuove forme di istruzione nelle scuole italiane è l'argomento che l'Avvocato Gianfranco Amato, presidente dei giuristi per la vita, affronterà nel corso di un dibattito in programma domani sera alle 21 nei locali della Chiesa Cristiana Parole di Fede di via Zabbarelle nella frazione trapanese di Xitta. L'Avvocato parlerà in particolare di ideologia gender. L'evento che terremo sabato sera nella Chiesa Cristiana di Xitta in via Zabbarelle non è contro qualcuno, non è contro i gay o l'omosessualità, il transgender, ma è a favore e a difesa dei principi fondamentali che sostengono la nostra società, ovvero la famiglia. Gli incontri che tiene l'Avvocato Gianfranco Amato per tutta l'Italia rivelano qualcosa che i media molto spesso non fanno apparire, cioè che si sta cercando di introdurre nelle scuole italiane l'indottrinamento gender. Il gender affermerebbe che un individuo non è maschio o femmina, secondo il dato fisiologico, ma è libero di scegliere il suo genere in base a come percepisce la sua sessualità in quel determinato momento. Per cui noi vogliamo invitare tutte le persone a venire, ad ascoltare, perché l'Avvocato dimostrerà con dati di prima mano quello che effettivamente sta succedendo nelle scuole italiane che interessa i nostri figli e tengo a precisare che non è un incontro religioso, ma è un incontro aperto a tutti. La pagina sportiva con il calcio, il Trapani tornerà in campo questo pomeriggio per la seduta di rifinitura, subito dopo ci sarà la conferenza dell'allenatore Alessandro Calori, ma andiamo a conoscere da vicino la prossima avversaria della squadra Granata, la Virtus Francavilla. Sabato al provinciale arriva la Virtus Francavilla per la quindicesima giornata del girone C di Serie C. La squadra pugliese si trova attualmente al quinto posto con 22 punti, frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, con 15 gol fatti e 12 subiti. Rispetto alla scorsa stagione ha cambiato molto, soprattutto nel reparto avanzato, ma ha creato una squadra che ha un ottimo mix tra giocatori esperti e più giovani guidati da un tecnico molto preparato come Gaetano D'Agostino, l'ex giocatore di Serie A con le maglie di Roma, Udinese e Fiorentina e Siena che ha allenato lo scorso anno Lanzio in Serie D portando la squadra laziale alla salvezza. Il tecnico palermitano per la sfida contro il Granata deve fare a meno per squalifica del nigeriano Folorunsco e dovrebbe schierare i suoi con il solito 3-5-2. Tra i pali troveremo Albertazzi, la difesa sarà composta da Pino, Prestia e Maccarrone. A centrocampo agiranno Agostinone e Di Nicola sulle fasce, Diasson in cabina di regia con Mastropietro e Sicurella ai suoi lati. In attacco Saraniti è sicuro del posto, mentre l'ex Granata Madonia, autore di 2-0 contro l'Agregas, si gioca il posto con il francese Ania. La Virtus Francavilla è sicuramente una squadra molto insidiosa, ha dimostrato di saper bene interpretare le partite e di avere calciatori molto interessanti in rosa. Sarà determinante tenere alto il pressing in modo di non concedere facilmente il giro di palla e bisognerà provare a mettere in difficoltà il reparto arretrato che finora si è dimostrato il più demole della squadra. E continua la preparazione della pallacanestro Trapani in vista della sfida di domenica contro Legnano. Domani ci sarà la conferenza pre-partita alle 11.30, interverranno il coach Ugo Ducarello e l'ala Gabriele Ganeto. Andiamo a conoscere da vicino anche in questo caso la prossima avversaria della squadra Granata. Il pranzo della domenica al pallaconad con pallacanestro Trapani-Legnano. In onda su Sport Italia la sfida non sarà delle più semplici. Legnano è la seconda in classifica con un gioco in attacco molto efficiente. Coach Mattia Ferrari a Legnano da qualche stagione ha confermato grosso modo la squadra dello scorso anno con Raivio e Mosley come stranieri. Il trapanese Martini a guidare la squadra che insieme a Raivio da guardia costituiscono il punto di forza di questa compagine. Reparto lunghi che conta sull'atletismo di Mosley e sull'aggressività di Pullazzi. Dalla panchina una certezza come Maiocco e diverse scommesse dalla B2 con giovani molto interessanti. Appuntamento allora a mezzogiorno di domenica 19 novembre per una di quelle partite che vale la pena vedere. Per gli appuntamenti su Telesud questa sera ritorna Seconda Repubblica alle 21. In replica alle 23 ospiti in studio saranno l'ex sindaco di Alcamo ed attuale segretario organizzativo del Movimento Sicilia Futura Giacomo Scala e l'onorevole Livio Marrocco di diventerà bellissima. Termina qui questa edizione del telegiornale ma come di consueto subito dopo la pubblicità torniamo in diretta con la Seconda. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!